Ciao amici, ci troviamo a San Giovanni Rotondo e se non siete mai stati al santuario di Padre Pio vi porto a fare un giro al suo interno, dove possiamo trovare tante celebrazioni ai santi e papi del passato. C'è anche tanta beneficenza nei confronti di statue e luoghi dove San Pio ha vissuto, ma più camminavo in mezzo a tutto quello sfarzo più mi sentivo male. Non capivo e non capisco come sia possibile tutto questo. Gesù predicava l'umiltà e la povertà, San Francesco pure, ed ora invece viviamo in un'epoca dove i mendicanti rimangono con i bicchieri vuoti, mentre statue, crocefissi e difunti hanno tanta abbondanza intorno. Ed i pellegrini turisti, convinti di potersi comprare l'accesso al giardino e la vita eterna con soldi, con preghiere, appena usciti di lì usavano il nostro giardino come fosse una pattumiera, diventando così una discarica. Non voglio giudicare, ma non comprendo e tutto ciò mi fa sentire triste. Grazie. Grazie.